Passano il rumore, sono degli zappi Vai Gia Maschi, sei vivo! Vai Gabri, vai Gabri! Vai Gia Maschi! Parte regolarmente anche questa gara che vede in vista junior e senior maschi per la 10.000 metri a eliminazione Campana a meno 24 Grazie a tutti! 1, 6, 7, 8, 1, 6, 7 1, 6, 1, a Monito 5, 5, 5, 5, eliminato 5, 5, 5 51, eliminato il 51 1 1 1 2 1 2 2 2 1-6-1 eliminato 102 eliminato il numero 102 3-9-7 eliminato 3-9-7 ha munito il numero 5-9-7 5-5-9 eliminato no correggiamo 5-5-9 confermato 4-1-5-9-7 Grazie a tutti. 5, 8, 6. 586 eliminato. 47 eliminato il 47. 47 eliminato il 47. 378 eliminato. 230 eliminato il numero 230. 230. 2, 3, 5. 235 eliminato. 215. 215. 215. 215. 215. 162. 162. 162 eliminato. 235. 225. 235. 235. 225. 235. 235. 235. 235. 45 eliminato il numero 45 siamo alla volata per il traguardo volante del meno 8 il traguardo volante del meno 8 38 numero 38 eliminato nel frattempo il gruppo si è disgregato per un dato passo sulla testa 52 eliminato il numero 52 315 eliminato il 315 18 12 21 33 33 33 34 34 35 212, 2-1-2 eliminato. 4-2-4, 424 eliminato. 5-2-3 eliminato, 5-2-3, 524 eliminato. 3-3 eliminato, 3-3 eliminato. 3-3 eliminato, 3-3 eliminato. Al prossimo passaggio campana e ultimo giro e ultima eliminazione. Lanciano la volata sulla testa del gruppo. Vediamo all'ultima eliminazione. 1-1-1, 111 eliminato. Eccoli sul traguardo. Arrivo ufficiosamente per il 276. Saranno i giudici a confermarlo? 276 Bramante. Grazie. 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 Grazie.